Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Telemolise in apertura calcio di serie D ufficializzato il nuovo tecnico ad Isernia. Si tratta di Giovanni Renna che ieri pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento insieme ai due nuovi arrivi Bianco Celesti, ex Nocerina, Fantasia e Galano. Ai nostri microfoni proprio il nuovo tecnico dei Pentri. Mister Renna, lei è arrivato da poco qui alla guida dell'Isernia Football Club, i lavori sono iniziati da pochissimi giorni. Le prime impressioni su questa nuova squadra che si sta formando? Sì, una squadra che si sta formando e che comunque c'è molto da lavorare, stiamo facendo le giuste valutazioni insieme alla proprietà di questi ragazzi che sono arrivati. Poi è normale che credo che ci vogliono almeno 3-4 innesti di sicuro affidamento, quindi stiamo valutando, stiamo facendo delle valutazioni e vedremo un attimino dove intervenire e come intervenire. Lei già conosce la piazza di Isernia, ha un trascorso da giocatore qui, quindi insomma conosce bene le esigenze e le richieste di questa città. Sì, ci sono stato qui da calciatore, sono stato benissimo, conosco come è fatta la piazza, i tifosi giustamente, la città pretendono comunque di un bel gioco, pretendono comunque una salvezza, ma soprattutto la cosa essenziale è l'attaccamento alla maglia, il sudore e cercare di salvarci quanto meno possibile, che sarà l'obiettivo principale quest'anno che dovremo raggiungere. Che squadra sarà quella di Renna per la nuova stagione? Sicuramente giocheremo, cercheremo di fare un buon calcio, che è una mia prerogativa, sicuramente la priorità sarà questa qui, di giocare, di fare un buon calcio, poi perché io penso che comunque tramite un buon calcio i risultati possono arrivare prima. Per assistere al match di Coppa Italia tra Pisa e Termoli di domenica prossima non sarà necessaria l'esibizione della tessera del tifoso. La società annuncia che sarà possibile partire da Termoli già avendo acquistato il biglietto per la partita. La vendita partirà domani nel centro adriatico. Intanto nuovo arrivo in casa giallorossa alla corte di Trellini è arrivato il difensore classe 82 Francesco La Rosa, giocatore d'esperienza con alle spalle una lunga carriera tra B, C1 e C2 con un totale di 12 reti realizzate. Per quanto riguarda la squadra abbiamo avvicinato De Tommaso. De Tommaso, altro uno arrivato in casa Termoli, 32 anni, quasi 33, un'esperienza importante che metterà al servizio di questa squadra, questo Termoli, per cercarla di proiettare e condurla per mano. Sicuramente si è fatta questa scelta con gioia. Per me è stata sempre una piazza in vita e francamente trovarmi qua mi rende felice. Voglio subito partire, voglio subito incominciare e cercare di fare un grosso campionato. Conosci già qualche compagno di squadra? Io purtroppo ho fatto per 10 anni, 12 anni l'altro girone, quindi ci siamo trovati praticamente poco a giocare contro. Però dai, il ritiro serve anche a quello, subito a conoscersi e andare avanti più che altro. Senti, arrivi da Tarondo, sei un giocatore roccioso, tosto come si suol dire nel gergo calcistico. Sicuramente sei uno di quelli che non tira il piede indietro. No, la caratteristica nostra purtroppo è quella. Noi veniamo dalla strada, quindi sappiamo in determinate occasioni come comportarci. Però del resto non abbiamo timore di niente, giochiamo a calcio che è quello che ci serve fondamentalmente e dai, vediamo quello che viene. Senti, c'è subito la Coppa Italia da onorare, impegno importante, però tutto sommato stimolante per la nuova stagione. Ma sicuramente, si parte con una partita importante, è normale, avremo poche risorse perché comunque avremo carichi di lavoro grossi alle spalle. Però noi cercheremo comunque subito a far capire alla gente che onoreremo la maglia dal primo giorno. E questo pomeriggio, test per il Termoli alle 17.30 contro la Cliternina. Venerdì poi è previsto al Cannarsa il primo stage per tutti i ragazzi della zona basso-molisana, nati dal 1996 al 1999. Ad Agnone, Rosa allargata a 23 giocatori, ultimi colpi di mercato per il direttore sportivo Maurizio Sabelli. Si sono aggregati Petrone, ex Venafro, Isernia Arzanese e vecchia conoscenza di Urbano. Oltre a due ragazzi, il classe 94 Grossi, prelevato dall'eccellenza laziale, e lo Juniores del Bari, classe 95 De Paulis. Resta ancora in stand-by la situazione che ità intanto domani alle 17 al Civitelle in campo per la prima uscita contro il Foggia con pagine neo ripescata in seconda divisione. Per il Boiano, questa mattina, mister Berlinghieri ha svolto un sopralluogo delle strutture matesine, mentre nel pomeriggio alle 15 si ritroverà con la squadra per svolgere il primo allenamento. Umberto Lozzi non si tira indietro, rimane lui al timone del Campobasso 1919. Francamente non ci stupisce, chiunque voglia può sostenere la società, quindi il tentativo del comitato Noi Siamo il Campobasso è quello di disputare almeno il campionato d'eccellenza, ovvero non è servito assolutamente a nulla. Ora non resta che la via della promozione, ma vediamo il servizio nel punto di Gianni Bruno. Umberto Lozzi si è regato stamane presso il comune di Campobasso unitamente ai soci del 19 per declinare l'offerta girata dal comitato attraverso l'assessore De Benedittis. Questa è la novità della mattinata. Lozzi ha confermato ampia disponibilità ad accogliere aiuti esterni o collaborazioni da chiunque fosse intenzionato, ma senza cedere la proprietà del suo club. Lozzi dunque non si ammorbidisce di fronte all'offerta di 50.000 euro soltanto per rilevare il titolo del suo club, una cifra davvero dalle proporzioni ingenti e che probabilmente avrebbe allettato anche altri proprietari. Non Lozzi che si tiene quindi stretta la sua società, forse rinvigorito dal fatto che a questo punto i riflettori calcistici potrebbero, ma il condizionale è d'obbligo, essere puntati sulla sua società di eccellenza. La città calcistica sposa la causa portata avanti dal comitato, difficile che qualcuno si identifichi nel pur rispettabile progetto di Lozzi. Il comitato da par suo incassa e porta a casa la risposta negativa, ma non certo esce scoraggiato dalla vicenda. Rimane fermo l'intento da perseguire, quello di far risorgere il calcio rosso-blu da un'annata zero con una società senza debiti e con persone del posto alla guida. L'associazione stessa declina l'invito di Lozzi a fare parte del consiglio direttivo del Campobasso 19 in quanto in disaccordo con alcune condizioni che sarebbero già apposte ed irremovibili. A questo punto potrebbe riprendere corpo la soluzione Acli appena due mesi fa approdati nel campionato di promozione ai play-off battendo il Torre Maiano. Il comitato, tramite Giulio Perrucci, fa sapere che entrerà in contatto con il presidente Marco Meo, così come il massimo esponente del comitato busserà alla porta della FC Molise su sollecitazione proprio del presidente onorario di questa società di prima categoria, Luigi Iacampo. Quest'ultimo ha messo a disposizione gratuitamente un titolo di prima categoria potenzialmente di promozione, vista la domanda di ripescaggio già effettuata e da prendere in considerazione. Lo stesso Luigi Iacampo è stato l'unico cittadino sensibile che si è adoperato per rimettere a posto il manto di Selvapiana. Lavori non solo di taglio erba e irrigazione campo ma anche di innesto di terreno, laddove difettava specie quindi nelle aree di rigore e sulle fasce laterali. Da registrare che l'allagamento del tunnel che conduce dagli spogliatoi al campo non è dovuto ai lavori recenti prestati gratuitamente da Iacampo, bensì da un guasto che deve essere ancora valutato dalle persone competenti. E a proposito della posizione ufficiale del comitato, noi siamo il Campobasso, sentiamo il parere del presidente Giulio Perrucci. La novità della mattinata riguarda il rifiuto di Umberto Lozzi della vostra offerta, pur corposa, 50.000 euro per rilevare un titolo sportivo. Allora, a caldo, come commenti questo diniego di Umberto Lozzi? Vabbè, era una delle due opportunità, hanno scelto di rifiutare questa offerta, ne prendiamo atto, accettiamo e andiamo avanti. Ci si è interrogati anche sulla provenienza di questi 50.000 euro, ovviamente io non voglio entrare nel merito anche perché tu stesso hai dichiarato che di questi 50 non avrebbero fatto parte quelli raccolti dal comitato, cioè i famosi 20.000 euro, a questo cosa rispondi? Allora, io penso che dobbiamo fare un po' l'escursus di questa storia, cioè noi siamo nati come associazione con un atto notarile, in cui eravamo, in quella sede eravamo presenti noi, il sindaco e l'assessore Aldo De Benedittis. Noi abbiamo attivato questa raccolta fondi, il cui risultato finale, quindi il capitale che andremo a gestire da qui a pochi giorni, doveva confluire nella nascita di un nuovo soggetto calcistico, Campobassano. In partenza eravamo tutti attirati dallo sfruttamento dell'articolo 52, dal famoso lodo Petrucci, quindi ci siamo concentrati nella speranza di poter riscriverci in Serie D, con una nuova società. Svanita questa opportunità, il nostro obiettivo era quello di mettere a disposizione della città un titolo di eccellenza, a questo punto, cercando di risparmiare le 100.000 euro dell'Odo Petrucci. Quindi il titolo a disposizione. Il titolo cittadino è quello del 1919, la cui proprietà noi rispettiamo, perché ne riconosciamo i sacrifici fatti in questi anni, e quindi non abbiamo nessun titolo o diritto di poter espropriare a loro un titolo. Però abbiamo individuato in questo titolo l'opportunità di mettere a disposizione, di mettere a disposizione della città, per creare la famosa base societaria Campobassano allargata, e in questa nuova società con base allargata sarebbe confluito anche il nostro capitale. Allora, la nostra offerta che abbiamo fatto ieri era un'offerta che era coperta, garantita, anche da questi soldi. Avremmo potuto trovare qualsiasi persona che c'è vicina che poteva anticiparli, oppure nel caso ci fosse stata una trattativa, nel senso avremmo trovato un accordo per poter pagare questi soldi alla proprietà del 1919, ma poi questi sinceramente sono problemi nostri. Abbiamo fatto l'offerta, era un'offerta seria, coperta, anche importante, è stata rifiutata e ne prendiamo atto. Come ne deve prendere atto penso tutta la città. Perfetto, a questo punto ti chiedo anche un parere, rispetto profondamente alla proprietà che detiene Umberto Lozzi del Campobasso 1919, ti chiedo se di fronte a questa offerta poteva, oppure ti aspettavi tu stesso, un ammorbidimento da parte di Lozzi, visto che l'offerta stessa è senz'altro allettante. Io mi aspettavo tutto e il contrario di tutto. Ripeto, rispetto al suo lavoro e alla sua proprietà. Noi volevamo semplicemente, c'è stato offerto di entrare in società, però dovevamo entrare in società a determinate condizioni, cioè nel senso che vediamo due o tre posti nel Consiglio, però a quanto capito l'allenatore era già definito, il presidente pure, quindi sarebbe stato all'opposto di quello che era in principio della creazione della nostra associazione. Quindi non è una proposta che noi possiamo accettare. E non è nemmeno un voler dividere la città, perché qua non c'è niente da dividere, qua c'è soltanto da ricostruire un soggetto sportivo, evitando il più possibile dei personalismi, è quello che abbiamo cercato di fare dall'inizio. Ho la fortuna di rappresentare 150-160 persone che hanno messo i loro risparmi in questo progetto. Quindi ne prendiamo atto, andiamo avanti. Ti chiedo, quali sono le prossime mosse da parte del Comitato? Adesso ci incontreremo, faremo il punto della situazione, andremo a parlare con le altre società cittadine, in questo caso con le ACLI di Marco Meo, con F.C. Molise abbiamo già parlato e li ringraziamo pubblicamente per aver messo a disposizione il loro titolo, però non potevamo nemmeno tenerli troppo in campana, perché anche loro avevano da fare delle scelte tecniche e societarie. E quindi con molta tranquillità noi non demordiamo, continuiamo a ringraziare la gente che ci sta continuando a dare soldi, a mettere soldi sul conto corrente. Non ultimo, prima di venire da qua, una signora tifosa ci ha comprato quattro quote dell'associazione, vuole passare, però la ringraziamo pubblicamente perché lei sa a chi mi riferisco. Quindi il nostro progetto va avanti, la palla non è più nelle nostre mani, noi faremo quello che possiamo fare, ci auguriamo di trovare interlocutori che ci stiano a sentire e capiscano quello che vogliono fare, però voglio sgomprare perché ci hanno accusato di avere alle spalle personaggi definiti più o meno in una determinata maniera, che non sto qui a commentare perché è superfluo, alle spalle non abbiamo nessuno, abbiamo semplicemente la voglia di creare, ripeto, a campo basso, una società duratura che debba fare anche per dieci anni l'eccellenza, che però non abbia più sbalzi di umori relativi a una persona che ne è a capo oppure a tutto quello che è successo in questi anni. Prosegue la messa in onda degli Oscar di Tere Molise, trasmissione storica della nostra emittente, oggi vi riproporremo l'edizione del 1987, dove ospite Fuggigi Sabani, l'appuntamento è alle 21 sul canale 112. Mountain Bike, l'11 agosto, si svolgerà il primo trofeo Sant'Emidio, gara di mountain bike specialità cross country, organizzato dalla SD Bike Store di Isernia. Il circolo Varazzi è la SD Molise Tour Bike di Campobasso, la gara si svolgerà a Monteverde su un circuito di 5 chilometri da ripetere per 5 volte, per un totale di 25 chilometri. Saranno ammessi alla gara tutti i tesserati della Federazione Ciclistica Italiana e degli enti della consulta. Promozione, sono scaduti alle 13 termini per le società Biferno, Cerrese e Virtus Matesina Sant'Angiolese per perfezionare la domanda di iscrizione. Alle ore 13 di questa mattina è scaduto il termine ultimo per le tre compagini di promozione chiamate a sistemare la loro posizione in virtù dell'iscrizione al campionato di promozione 2013-2014. Parliamo come noto di Acquaviva, Cerrese, Biferno Calcio e Virtus Matesina Sant'Angiolese. Ebbene, non c'è ancora nulla di ufficiale, ma notizie ufficiose ci parlano di una situazione abbastanza definita. La Cerrese dovrebbe essere l'unica compagine pronta all'iscrizione. Il team del presidente Lucio Scorrano dovrebbe perfezionare il tutto e presentarsi al prossimo torneo di promozione. Situazione diversa per la Virtus Matesina Sant'Angiolese. La compagine retrocessa dopo gli spareggi persi contro il Gambatesa dal campionato d'eccellenza non dovrebbe iscriversi in promozione, ma bensì in prima categoria. Naturalmente parliamo di notizie ancora non ufficiali. Discorso chiuso invece a Guardia Alfiera. Il Biferno dalle parole del presidente Raffaele Di Vito chiude definitivamente i battenti. Una notizia che sicuramente non fa piacere dato che il presidente Raffaele Di Vito per anni ha offerto compagini a Guardia Alfiera tra eccellenza e promozione. A questo punto il ripescaggio dell'FC Molise e dello Spinete dovrebbero essere praticamente ufficiali. Va naturalmente aspettata la retifica del consiglio della FIGIC Molise previsto per venerdì 2 agosto. In tal senso, se la Cerrese non dovesse poi riuscire ad iscriversi, andrebbe ricercata un'altra compagine pronta a sacrificarsi per l'iscrizione al torneo di promozione. L'organico resta il solito con Acli Campobasso, Campo di Pietra Casalnuovo, Monterotaro, Castelmauro Ermestoro, Maronea Calcio Olimpia, Riccia, Real Termoli Rocca Sicura, Treppini Sporting, Matese, Ex Valle Agricola oltre alle già ripescate Kerkes, Cerce Maggiore Nuovo, Vinchiaturo e Acli Torremagliano. Nei prossimi giorni sono attese novità importanti. Scacchi da venerdì a domenica presso i locali del convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso si svolgerà la ventesima edizione del torneo internazionale di scacchi denominato Città di Campobasso. La gara organizzata dal circolo Scacchi Monforte di Campobasso con il patrocinio dell'assessorato allo sport della regione Molise e del comune della provincia e dell'EPT di Campobasso accoglierà i migliori interpreti della scacchiera provenienti da tutto il mondo. Mauro Ponzanesi, volto noto in riva all'Adriatico e non solo nonostante ami ancora calcare i campi come giocatore, è alla ricerca di una squadra da allenare. Noi lo abbiamo intervistato. Mister Mauro Ponzanesi in attesa allenatore importante del campionato di eccellenza Molesana, è allenato anche in promozione, insomma diversi campionati da giocatore, però continua ancora indossare le scarpette, ti tieni sempre in forma e in allenamento in attesa di una chiamata importante. Ma in forma e in allenamento sempre fin quanto il fisico me lo consente io non mi tiro mai indietro, anzi mia moglie pure mi richiama anche un po' dice guarda che devi dare una calmata perché non c'è più 30 anni. Niente, vediamo, vediamo quest'anno, un altro anno forse anche un po' più difficile dell'anno scorso per tanti motivi come sappiamo, quindi non penso che sia tanto semplice trovare qualche situazione dove ci si possono fare le cose seriamente però bisogna vedere se aspetta qui a Dinal Molise, bisogna aspettare sempre l'ultimo giorno perché è sempre stato così, ci si organizza con molta calma. Vediamo, siamo alla finestra però senza grosse pretese. se c'è la possibilità e c'è qualche situazione che crea entusiasmo allora la prendiamo in considerazione altrimenti non è un problema ci dedichiamo alla famiglia come abbiamo fatto negli ultimi anni. Ma si soffre anche perché ci sono meno squadre in Basso Molise e quella forse è la condizione peggiore in questo momento? Sicuramente, anche perché visto che lavoriamo quindi non abbiamo la possibilità di spostarci per motivi di lavoro quindi o c'è qualche possibilità qui in zona nelle vicinanze altrimenti bisogna rinunciare tutto qua però pazienza ci dedichiamo alla Juve e vediamo il Termoli se non troviamo niente di meglio questo Termoli sembra nel cuore sia stato il capitano dell'Unione Sportiva Termoli speriamo, speriamo che quest'anno si possa fare il salto di qualità anche se non è semplice però i presupposti, l'entusiasmo la voglia sembra che c'è vediamo, aspettiamo Tornei estivi calcio a 5 questa sera presso il campo sportivo riuscito di Petrella Tifernina si disputeranno le finali del 23esimo Memorial Salvatore Amoddio dunque terzo e quarto posto dalle 21 e primo e secondo a partire dalle ore 22 Tennis da sabato per una settimana si svolgerà il secondo torneo Open Nazionale organizzato dall'Associazione Tennis Termoli il Montepremio è fissato nuovamente a 2000 euro con rimborso spese per i primi 8 classificati come sempre a sfidarsi alcune tra le migliori racchette nazionali Bike Contest lo scorso fine settimana Frosolone ha ospitato una tre giorni dedicata agli amanti del ciclismo ai nostri microfoni Tommaso Elettrico ciclista campano che ha vinto il Gran Fondo Tommaso Elettrico vincitore della prima edizione del Gran Fondo del Matese come è andata com'è il percorso insomma raccontaci un po' di queste ore sulla bicicletta il percorso davvero bello e durissimo siamo sui quasi 3500 metri di slivello la corsa è stata impegnativa sin da subito salendo a Campitello Matese e poi niente ho mantenuto i donati l'ex professionista e sull'arrivo sapevo comunque di essere comunque avvantaggiato su un arrivo simile quindi va benissimo così il quinta vittoria stagionale va avanti una stagione stupenda ecco invece dal punto di vista dell'organizzazione la prima edizione però insomma come l'hai trovata? ho fatto anche primi complimenti all'organizzazione davvero segnalato benissimo nonostante fossero strade di montagna però non ha nulla da invidiare alle più belle gran fondo davvero bellissima se ci sarà la seconda edizione sicuramente sarò qui nuoto nuoto soddisfazione per il giovane molisano Giuseppe Petriella che ha vinto dopo dieci mesi di duri allenamenti i campionati italiani di nuoto nella categoria esordienti a Rovereto questo fine settimana Staffoli ospiterà la seconda edizione del Molise Western Show con le specialità pole bending e barrel racing la manifestazione avrà inizio alle 16 bene questa era l'ultima notizia del nostro TG Sport io vi ringrazio per la cortese attenzione attenzione